Pian Grande di Norcia è uno dei posti più rinomati in Italia per volare con il parapendio nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in questa valle si impara a volare e lo si fa in un modo speciale perché non ci sono ostacoli né nel decollo e neanche nell'atterraggio come per esempio pali della luce o cavi oggi il vento viene dall'est per cui ci permetterà di decollare proprio sul promontorio che dà sulla valle di Pian Grande ed io voglio provare, andiamo! è uno spettacolo impressionante sembra di volare dentro un quadro di Van Gogh di fronte a me il Monte Vettore e dall'alto vedo Casselluccio bellissimo è una visione unica quando sei lassù in alto è un vero e proprio spettacolo della natura è una visione un'altra